Buongiorno e ancora una volta complimenti per l'ottimo lavoro che il Moje con la Polizia Postale e con le altre istituzioni sta svolgendo nel campo della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e per un'internet sicura. È un argomento che purtroppo continua a essere di grandissima attualità nel mondo dei ragazzini, dei ragazzi, dei giovani, ma anche nel mondo degli adulti. E le notizie di cronaca, spesso veramente tragiche, ci costringono a tenere sempre vigile la nostra attenzione sul problema proprio dell'internet sicuro. Credo che l'idea di creare dei giovani ambasciatori, di creare proprio sensibilità e interesse nei ragazzi su questo argomento sia l'arma vincente. Quindi complimenti per il lavoro che avete sempre fatto e che farete ancora quest'anno e io, per quello che posso, sono con voi. Un bocca al lupo. Grazie. Grazie.